Chi ospita nella propria casa, alloggio, aiuta, uno straniero non in regola, traendone un vantaggio economico illecito, assume una condotta assimilabile a quella degli scafisti, ai trafficanti di esseri umani, si va nel penale e si rischia di andare in carcere, oltre a pagare la multa. Così questa mattina ai nostri microfoni il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, il generale di bregata Danilo Petrucelli, all'indomani del blitz effettuato dalle fiamme gialle in stretta sinergia con i vigili urbani, l'ufficio immigrazione della Questura, il comune su disposizione del prefetto Francesco Russo, per verificare lo stato di illegalità sul territorio, al fine di frenare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, che ha portato ad identificare in otto immobili 68 extra comunitari, di cui quattro risultati essere privi di permesso di soggiorno, evidenziando allo stesso tempo una situazione di affollamento nelle case, in condizioni igienico-sanitarie alquanto precarie. Mentre all'esame dei finanzieri la verifica delle regolarità fiscali delle abitazioni, occupate prevalentemente da cittadini originali del Bangladesh, di proprietà di tre persone fisiche ed una società ai quali sono riconducibili oltre 20 immobili anche in provincia di Salerno, il monitoraggio continuerà per verificare se ci sono altre situazioni simili sul territorio. Quello che sicuramente continueremo a fare è quello di monitorare la situazione per vedere se ci sono situazioni di questo tipo ripetute sul territorio. Intanto, per quello che è emerso nel caso particolare, si tratta di una situazione che coinvolge quattro proprietari di immobili, tre persone fisiche e una società, ai quali sono riconducibili complessivamente oltre 20 immobili, non solo a Salerno ma anche nella provincia. Quindi la fase successiva dell'intervento della Guardia di Finanza è finalizzata proprio a verificare la regolarità dal punto di vista fiscale della locazione di questi immobili per vedere se effettivamente siano stati regolarmente registrati i contratti e per lì sono i canoni effettivamente percepiti se siano stati effettivamente pagate le imposte. Non ci troviamo di fronte a casi di affitto in nero. In molti casi si tratta addirittura di subaffitti, c'è una persona che affitta e poi gli altri che affittano le camere. Sì, questa è un'ipotesi che va verificata perché chiaramente dipende tutto da quelle che sono le evidenze investigative che verranno acquisite successivamente. Ecco, in questo caso una riflessione però si impone da parte di tutti coloro che possono trovarsi in questa situazione, cioè i proprietari di immobili. Bisogna tenere presente che la norma è molto rigorosa al riguardo. Quando si ospitano degli irregolari e sfruttando questa situazione si hanno dei vantaggi economici illeciti. La posizione di questi proprietari è assimilata a tutti gli effetti a quella degli scafisti, i trafficanti di esseri umani. La legge è molto rigorosa, si va nel penale, si rischia di andare in carcere, è prevista la reclusione fino a quattro anni, oltre che la multa superiore ai 15 mila euro. E allora forse è il caso di osservare le regole, di essere puntuali nell'osservanza delle disposizioni, di verificare la posizione degli inquilini. Sapendo peraltro che da puntista fiscale ci sono importanti di agevolazioni, perché in questo caso per il pagamento delle tasse sugli affitti è prevista la cedolare secca, con una liquida del 21%, che addirittura nel caso di contratti a canone concordato scende al 10%. Bisogna elevare il livello di percezione di sicurezza da parte della nostra comunità. E questo è molto più importante in una società multietnica dove il rispetto delle regole è presupposto per la civile convivenza di tutti quanti. Nessuno sgombero al momento? Guardi, riguardo allo sgombero so che è stato interessato i competenti uffici del Comune e in questo caso è richiesto intervento della Polizia Municipale.